sono tornato allora sto facendo il video subito dopo quella bellissima introduzione del canale ho cambiato outfit ho tolto gli occhiali ho messo il cappello comunque riascoltandola ho sentito che ho una voce proprio brutta è pesantissima allora lo so che bisogna essere naturali però però cercherò di contenermi assolutamente perché veramente neanche il mio peggior nemico farei riascoltare la mia introduzione però la lascio lì perché mi piace il trash la farò riascoltare ai miei prof quando li voglio morti dopo che non insufficienza va bene in questo video cos'è che farò introdurrò no introdurrò un cazzo mostrerò la prima recensione del canale tra tutti i film che potevo scegliere quale ho scelto tra quelli che potevo recensire ma in verità non è che ho fatto una ho detto prendo il mio film preferito lo prendo per la mia prima recensione in verità ho preso un film che ho rivisto da poco c'è un dvd di due registi fratelli che a me piacciono veramente tanto nonostante io scriva perché scrivo soggetti in generale non sono nessuno però mi piace scrivere soggetti di storie che cercano di essere meno simili possibile alla realtà ma piace il fatto che nel cinema bisogna guardare con un occhio diverso allontanarsi distaccarsi dal mondo reale questi sono proprio il realismo per eccellenza proprio anche nei movimenti delle macchine da presa sono i re delle della macchina spalla con movimenti di macchina spalla quindi assolutamente non lineari non puliti tutti mossi quindi disturbanti da un certo punto di vista sto parlando dei fratelli d'Arden i fratelli d'Arden secondo me sono dei registi di un livello veramente altissimo secondo me hanno fatto veramente tantissimi capolavori nonostante comunque siano legati a livello di messaggio di contenuto di storie in generale il loro messaggio la loro morale il loro modo di essere non è tanto variato negli anni loro fanno film importanti dalla metà degli anni 90 e niente comunque stanno sono ancora ad altissimo livello ancora oggi oggi vi parlerò di un loro film che ha vinto la palma d'oro nel 2005 e di cui ho il dvd come ho già detto ossia l'enfant una storia d'amore perché ho scelto questo film come prima di riflessione non lo so sinceramente non lo so però vabbè vabbè dai me la tengo buona allora tanto potrò parlare di l'enfant come di rosetta come di come il figlio come due giorni una notte vabbè potrò parlare di qualsiasi film dei d'Arden sinceramente tanto più o meno raccontano la stessa roba a livello di contenuto comunque l'enfant è uno dei miei preferiti questo lo posso sicuramente dire partiamo dal fatto che vince la palma d'oro nel 2005 insomma secondo me il del nuovo millennio sicuramente il premio cinematografico d'autore più importante io sono un grandissimo amante del festival di canna in generale credo che le palme d'oro di questo millennio e quindi vincitori del miglior film a parte forse il vento che accarezza l'erba di can loach siano tutti dei capolavori in mani proprio secondo me sono proprio dei film di altissima qualità poi mi piace molto lo stile francese sono un amante però vabbè insomma loro che l'avevano già vinta con rosetta nel 99 caldo assoluto ci fanno doppietta e non sono tanti nella storia che fanno doppietta a canna come miglior film mi viene in mente ane che loach si che ha vinto anche con io e daniel blake poi nel passato non mi ricordo sinceramente c'ho la memoria corta me li dovrei andare a rivedere però vabbè chiudiamo sta parentesi dei festival che magari approfondirò più avanti se ci avrò voglia perché può essere che il canale chiude domani cioè che non faccio più un cazzo già domani quindi vabbè di cosa parla l'enfant l'enfant è la storia d'amore di due ragazzi vent'anni avranno ventenni sì sono ventenni che hanno un figlio hanno fatto amore e si sono beccati un figlio sono felici no sono giovani incelli che vogliono iniziare le loro prime esperienze noi nella prima parte del film ci guardiamo in prima persona in terza persona proprio il personaggio di lei della ragazza di nome sonia come con tutto amore del mondo si ritrova poi nelle difficoltà di una madre alle prime armi che comunque sembra una storia normale no che con la figlia va a prendere poi il 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 marito si di nome bruno che è un ragazzo assolutamente non maturo diciamola così infatti lui sicuramente quello che sostiene i due l'appartamento però è della ragazza mi sa si prende i quindi guadagno in nero sia un po di attività un po un ragazzaccio no e in una momentanea crisi economica lui che non gliene mai fregato nulla del figlio lo vede proprio solo come mezzo per guadagnarci dei soldi e lo vende all'insaputa di sonia lo dice con tutta la tranquillità del mondo a sonia e lei gli sviene in faccia e lui preoccupato il giorno dopo va a riprendere il figlio lei in ospedale intanto perché è stata male riprende il figlio però e quindi gli dà i soldi a la gente che lo voleva insomma adottarlo che erano persone molto malfamate e infatti gli richiedono gli interessi il doppio degli interessi quindi lui si era preso 5.000 mi sembra e loro gli ha chiesto 10.000 quindi gli ha dato 5.000 e gli doveva dare ancora 5.000 lui che non aveva sicuramente le risorse voleva fregarsela filarsela il prima possibile fregandosene di questi lui dal figlio a lei lei non lo perdonerà mai mai non l'ha mai più perdonato e lui rimane da solo a cavarsela da solo in questa situazione di completo disagio finendo sempre per essere più ladro cercare sempre delle scappatoie ma finendo sempre nelle tragedie è rimasto in questa sorta di tormento in cui non riesce a uscirne e poi vabbè la storia finisce come sta magari dopo vi dico il finale però non ci tengo sinceramente a rovinarvi tanto chi cazzo mi ascolta ripeto però vabbè comunque questa era la trama in due minuti cosa racconta questo film dovete sapere che i dardenne non discutono di morali in particolare anzi dicono noi non siamo nessuno non siamo filosofi che stabiliscono dei pensieri al giorno d'oggi c'è gente molto più esperta di noi che la sa più lunga di noi noi mostriamo la realtà non per quella che è ma per quello che non bisogna fare e che solo in questa maniera però si riesce a capire e riformulo meglio diciamo che loro dicono secondo me che non c'è una regola fissa nella vita tu la devi vivere e subisci le tue ingiustizie sicuramente sicuramente le subisci però solo da esse puoi capire come come andare avanti no loro quindi prendono scene prendono esempi molto pesanti che non ci fanno capire chi ha ragione loro ci fanno immedesimare sempre nel personaggio che ha torto principalmente anche rosetta che adesso non vi spoilerò però principalmente la protagonista per sopravvivere è molto egoista e noi seppur siamo consapevoli che lei è in torto assoluto comunque stiamo accanto capiamo la situazione e quindi tolleriamo questo comportamento assurdo e la stessa cosa succede qua succede qua loro praticamente attuano sempre la stessa formula però funziona sempre per Kevin con le palme d'oro e si funziona non è che fanno sempre la stessa cosa non voglio far percepire questo messaggio secondo me mostrano comunque come sottotesto come succo la stessa cosa da un certo punto di vista però lo fa vedere con storia diversa come se fosse che il mondo la vita non è solo in quell'occasione che ti devi comportare in quella maniera ma con tutta occasione loro non prendono esattamente delle scene di vita quotidiana perché non è cioè per fortuna che non è che ogni giorno c'è gente che vende i propri figli in un contesto europeo come quello di D'Anfante che sarà stato in Francia o in Belgio non mi ricordo comunque in cioè non in Africa diciamola nel medioevo quindi in un contesto vicino al nostro ed è proprio la chiave anche di Dardenne farci medesimare proprio in queste ingiustizie in questa continua sopravvivenza rompere l'etica rompere il messaggio rompere la morale che noi dobbiamo essere sempre buoni siamo tutti buoni facciamo delle cose buone dobbiamo rispettare l'altro perché in una determinata situazione tu mandi affanculo la regola la mandi veramente cioè non l'ascolti cioè non è che se uno e questa cosa la dimostra bene un altro film dei Dardenne che è Due giorni e una notte sì secondo me quel film è un capolavoro veramente un grandissimo film e anche Il ragazzo con la bicicletta nei suoi difetti secondo me non è un film perfetto quello però ti fa capire certe cose diciamo che in ogni film di Dardenne impari qualcosa nonostante raccontano sempre la stessa cosa secondo me è questa la peculiarità del loro cinema che è assolutamente originale loro con queste macchine a mano che ti fanno proprio entrare nei movimenti tu entri proprio nell'ottica è qualcosa di clamoroso nonostante non entri in prima persona sei uno spettatore che però subisce tutti i movimenti in macchina come se tu fossi lì non è il primo a fare una cosa del genere è vero però sono i primi a dare secondo me un significato artistico al movimento della macchina alla presa sulla spalla forse il primo primo è stato Lars von Trier con Winterberg e il Dogma 95 che da quel momento danno un significato reale nella poetica dei due registi danesi al movimento di macchina sulla spalla più o meno la stessa cosa la fanno i Dardenne però non è che prima del 95 adesso non ricordo i che hanno il Dogma 95 credo sia il 95 proprio per il nome non mi ricordo nessuno nella storia del cinema non aveva usato la macchina a spalla ce ne sono stati a voglia però diciamo che volevano dare più un effetto superficiale esteriore proprio solo per dare il concetto di nausea dare quel concetto lì mentre i Dardenne come Lars von Trier adesso ho fatto due esempi a caso però è un elemento della loro poetica questa cosa qua questo elemento qua quindi adesso sto rileggendo la scaletta perché non mi ricordo che cazzo devo dire il finale adesso io non ve lo spoilero però principalmente è sempre quella la concezione di Dardenne la consapevolezza di essere maturato quindi si va da un passaggio A a un passaggio B dove c'è un cambiamento dei protagonisti non finisce mai dietro fine sono sempre tragedie le storie di Dardenne non principalmente che siano tragedie leggere che siano tragedie pesanti questo dipende dal film però principalmente il personaggio arriva ferito arriva in una situazione in cui deve ripartire però è consapevole qui non vi spoilero però non ci sarà una ripartenza perché non è possibile una ripartenza però a causa della consapevolezza loro in questo finale struggente si mettono capiscono di essere consapevoli in questi dieci secondi finali dove non si dicono niente si capisce solo che le immagini le vediamo noi capiscono che hanno fatto un'enorme cavolata è un caso che siano due persone giovani no è una critica al fatto che non siano mature ma no ma non è quello il concetto secondo me è più che altro che non è una questione d'età la maturità a cui si arriva perché i Dardenne ci hanno mostrato ogni fascia d'età nei loro film basta vedere il figlio dove c'è l'adulto dei 50 anni no o un ragazzo con la bicicletta che è proprio l'opposto no è un undicenne quindi diciamo che la maturità arriva solamente nel momento in cui vivi questa situazione life is a database tu vivi ti arricchisci solo dalle esperienze questa è più che altro la filosofia di Dardenne comunque è un fantasy come capolavoro assoluto struggente io lo consiglio a tutti perché è un film più che da criticare da giudicare è un film da vivere come tutta la filmografia di Dardenne sono dei film da vivere perché non hanno una morale concreta precisa non è che uno si comporta così per tutto il film perché perché quella è la morale no è vita è vita quotidiana uno si lascia i propri istinti sono persone umanissime forse uno degli apici del della connessione tra cinema e realtà secondo me il cinema di Dardenne adesso se vorrete ma chi chi mi vede vabbè però se prima o poi qualcuno magari dirà vogliamo un'altra recensione di Dardenne e la faccio volentieri però il fatto è che secondo me la concezione di ogni film è quella si può giudicare la trama e sulla genialità delle loro sceneggiature perché nonostante abbiano sempre lo stesso succo le sceneggiature sono tutte originalissime tutta una diversa dall'altra è clamorosa questa cosa il fatto che proprio da diversi punti così distanti dei concezioni di vita così distanti si arriva allo stesso punto perché l'uomo è così a prescindere è egoista lo sarà sempre egoista pensare ai propri fini ma è un male è veramente un male nella società è così e non è che puoi dire di no è inutile criticare se stessi cioè ci insegna un po' questa cosa secondo me i Dardenne è quello che è arrivato a me io comunque ogni volta che vedo un artista che la pensa in maniera diversa comunque mi arricchisce anche se non condivido le sue idee però la penserò sempre in qualcosa in più è un'esperienza no poi secondo me il cinema di Dardenne è veramente soggettivo cioè io lo leggo in questa maniera però c'è poco di oggettivo nella mia recensione secondo me ognuno la può pensare alla sua maniera sul cinema di Dardenne perché è proprio realtà quotidiana e ti arriva quello che ti arriva cosa ti manca te lo riempiono loro allora qual è però il succo finale per chiudere perché già 20 minuti sono capisco perché chi mi ascolta è pesante no bisogna dare un senso alle cose bisogna dare un senso assolutamente il peso delle conseguenze è legato bisogna dare un senso alle cose che tu mi scambi un figlio per dei soldi ci sta fino a un certo punto lui non gliene fricava niente del figlio ed è questo il pensiero che lo spettatore aveva dal primo momento proprio dall'abbraccio cioè ti fanno capire proprio le cose perfettamente senza dire una parola ed è il potere del cinema questo però devi essere un regista bravo per fartelo capire alla perfezione dal primo momento e i Dardenne sono proprio l'apice di questo di questa consapevolezza secondo me comunque il peso delle conseguenze solo non pensando alle conseguenze dei propri atti solo pensare al proprio quindi essere egoisti essere dogmatici al suo al al proprio fine si rischia sempre di perdere loro non hanno pietà a punire il personaggio di Bruno fino alla morte cioè tu arrivi proprio che il lo spettatore ha così tanta pietà di lui che dice basta non ce la fa non ce la fa più ci stai torturando ci state torturando Dardenne non dovete basta basta datevi un attimo di respiro cioè veramente è clamoroso ci sono tipo una mezz'oretta dove noi ci medesimiamo totalmente in Bruno che è un'agonia un'agonia veramente pesantissimo e poi secondo me è arrivato principalmente il valore familiare nonostante siano dei ragazzi la madre la Sonia è attaccatissima al figlio a prescindere da quello che possono provare dato che magari non ne sa ancora nulla però ne saprà ne saprà lei ama suo figlio lui non gliene frega niente è un oggetto come altri ed è una concezione che c'era anche nell'eclissi di Antonioni che non si dava il peso degli oggetti cioè che le persone e gli oggetti avevano lo stesso peso e rischiavano gli oggetti di essere più umani degli umani stessi è una concezione un po' filosofica e ammetto che è molto soggettivo questo collegamento perché secondo me i Darden non è che volevano dire esattamente questo però voleva sicuramente dare un messaggio a livello familiare loro che sono molto attaccati al valore familiare nei loro film basta pensare al figlio che secondo me è un altro capolavoro assoluto ragazzi il figlio è veramente un film potentissimo veramente potentissimo me lo dovrei rivedere perché era veramente potente io ho imparato più o meno il valore della famiglia più che dall'esperienza della realtà proprio dai film i film di Coreda secondo me mi sono serviti tantissimo per capire il valore familiare tra le persone e quindi niente principalmente è questo è nulla non voglio aggiungere altro su questa pellicola spero la visionerete e vi auguro una buona serata perché qui è tardi bene ciao ragazzi